Ultima partita del girone d'andata per il Teramo in casa qui al Bonolis domani pomeriggio contro il Catania. Penultimo appuntamento del 2019. Gara importante per i Biancorossi. Nonostante le tante assenze deve tornare a fare tre punti la formazione di Tedino che manca la vittoria dallo scorso novembre contro il Bisceglie. Nonostante tutte queste necessità comunque domani sarà una partita complicata come ammette il tecnico Biancorosso. Noi dobbiamo fare una grande partita domani sul piano dinamico, sul piano dell'aggressività. È una partita molto importante, bellissima da giocare secondo me. Dobbiamo conservare quello che abbiamo fatto domenica scorsa perché la squadra a me è piaciuta tantissimo sotto l'aspetto caratteriale. Conservare questo e cercare di giocare un pochino di più la palla. Un bilancio in chiaro scuro di questi primi mesi di lavoro per Tedino che probabilmente come ammette anche si aspettava di essere un po' più avanti. Non solo in classifica, nel lavoro con questa squadra. Quando io dissi così riteniamo proprio di capire che tipo di campionato fosse e soprattutto che tipo di squadre importanti c'erano in questo girone. Ce ne sono molte. È un pochino più qualitativo il campionato rispetto a quello che pensavo sinceramente. Ci sono molte squadre molto bene attrezzate. Per quanto riguarda il discorso della classifica sicuramente pensavo di avere 4-5 punti in più e secondo me erano anche meritati per quello che abbiamo gettato al vento all'inizio della stagione soprattutto. Mi riferisco a una partita fuori casa, una partita in casa. Erano 4 punti che dovevamo assolutamente prendere. Per quanto riguarda il lavoro sinceramente abbiamo cambiato anche modo di giocare e questo è stato secondo me anche una conseguenza di una dinamica di giocatori che pensavo avessero un approccio diverso e comunque pensavo io di lavorare in una certa maniera. Probabilmente il mio messaggio è stato molto più lento del previsto. Conferma in blocco per la formazione di domenica scorsa parte Ilari che è squalificato. Giocherà Mungo con Santoro a centrocampo insieme a Darrigoni e Costa Ferreira. Teramo che deve fare la partita, deve fare una partita tosta. Gagliard anche per trascinare il pubblico del Bonolis. Magnaghi ha un allenamento vero sulle gambe, cioè quello di stamattina. è convocato, però chiaramente anche due settimane abbondanti che non vede il campo.